Corrado Mutolo, domani il derby contro il Canicattì sul neutro di Ravanusa, che gara ti aspetti? È una gara sicuramente tosta, dove a prescindere dal fatto che sia derby, abbiamo visto che chi incontra l'Agranas dà qualcosina in più, anche se devo dire che loro per caratteristiche è una scuola molto aggressiva nelle ultime due partite ha un rendimento in casa e uno fuori casa diverso, non perché abbia perso, ma proprio a livello anche di conclusione la squadra che ha fatto nelle ultime due partite 10 gol in casa, non contro squadre improvvisate, ma squadre molto organizzate che sia il ballone, che sia la parola, abbiamo visto che davanti c'è gente che ti può mettere in difficoltà quindi l'abbiamo preparata con la convinzione che noi domani dobbiamo andare a fare una partita dove dobbiamo dare tutto, dove sicuramente dobbiamo andare a cercare di vincere, sempre con sapevole che affrontiamo un'ottima squadra